Buongiorno, anno da due euro per l'ai Vabbè, l'abbiamo fatta l'antenne Ma che è successo? C'è no Perché era il potere Auguri Potere, auguri La bella social, lo voglio Ma buongiorno, ce l'ha mai chiesto Questo è grazie a fiore Aspetta, signor fiore Si più presente che sta girando il video Scusate Oh, auguri Augurissimo, buon il 2009 Un bel cg da tutti quanti insieme Cg Auguri E che ora sta a dire? Un mese? Bamba, ma perché stai venendo? Vabbè 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 Grazie a tutti.